Buon compleanno Emporio! Fino al 30 giugno, sconto del 10% su tutti i prodotti. Sarà un avellino blindato a quella che questo pomeriggio accoglierà a braccia aperte il suo nuovo vescovo Monsignor Arturo Aiello. Cerimoniale e sicurezza, un binomio che nonostante la circolare Gabrielli permetterà ai circa 2.000 fedeli di salutare la loro guida spirituale. Alle 18.30 il vescovo arriverà in Piazza Libertà con il primo cittadino Paolo Foti e l'amministratore diocesano Don Enzo De Stefano. Divieto di circolazione delle auto ma anche dei pedoni a partire dalle ore 16. Da quest'ora via Nappi, via Trinità, via Casale, via Generale Cascino, via Episcopio e via Carmine saranno istituiti il divieto di circolazione sia veicolare che pedonale. Due le aree di sosta individuate per le auto dei fedeli, il parcheggio di Piazza Kennedy e quello di Piazza della Resistenza nei pressi di Campetto Santa Rita. Dalle 16.00 stoppa la circolazione anche in Piazza Duomo, Rampa San Modestino e Corso Umberto I nel tratto compreso tra via Clausura e Piazza Amendola. In via Luigi Amabile sarà istituito l'obbligo di svoltare a destra per via Crescitelli per chi proviene da via Carlo del Balzo, mentre chi proviene da Corsa Europa avrà l'obbligo al termine di via De Santis di svoltare a destra su via Due Principati. I mezzi che provengono da via Francesco Tedesco percorreranno Corso Umberto con l'obbligo di svoltare su via Sant'Antonio Abate. L'attesa principale per le 19.00 per la celebrazione eucaristica di insediamento alla quale parteciperanno oltre alle autorità di Avellino anche l'arcivescovo di Benevento Felicia Crocca, il cardinale Crescenzio Sepe, i vescovi di Ariano Nola Capua e l'abbate di Montevergine Padre Riccardo Guariglia.